Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Nel gerido sole di questo lunedì mattina parliamo di Serie A in questo video con la partita di ieri sera tra il Lecce e la Juventus. Gara terminata, come sapete, con la vittoria della Juve per 3-0, un successo che in questo momento porta la squadra di Allegri al primo posto in classifica in attesa che l'Inter recuperi la propria giornata. Inter che stasera gioca la finale di Supercoppa in Arabia davanti a un folto pubblico contro il Napoli. Che partita è stata questa Lecce-Juve? Diciamo, da un certo punto di vista, relativamente a Lecce, che è la squadra che segue ogni settimana per il canale, siamo un pochino nel solito cliché, ovvero una squadra che gioca anche bene, gioca un calcio anche piacevole da vedere, soprattutto nel corso del primo tempo, che concretizza molto, molto poco, sia perché quasi, come lo scorso anno, tira anche neanche tanto in porta, sia perché manca forse sempre un po' quella cattiveria che è oramai un tratto distintivo di questa squadra. Le giornate di campionato sono oramai già 21 e si è capito che, da un punto di vista della grinta, della rabbia, questa squadra non è particolarmente dotata. La Juve nel primo tempo ha, diciamo, un po' atteso, ha lasciato andare questo Lecce piacevole, veloce, che correva, che metteva in difficoltà anche un pochino la formazione bianconera, poi però che sa difendere in una maniera compatta, come raramente si vede fare in questo campionato, perché contro Lecce è neanche troppo arrembante, comunque la Juve era capace di rinculare tutta nel proprio, come si dice nell'hochi, e il terzo difensivo nella pedala proprio a tre quarti in giù, coprendo ogni spazio e rendendo molto difficili le occasioni d'attacco per il Lecce. Nel secondo tempo il Lecce ha avuto subito una buona chance in apertura di frazione con uno scatto velocissimo di Almquist che ha messo molto in difficoltà Bremer. La spinta di Bremer in area penso che francamente sia troppo magari per avere il rigore, mi sarebbe piaciuto però come sempre vedere la parte invertite, piuttosto che nel corso del campionato, naturalmente ho visto rigori anche molto meno netti di questi, per quanto sono d'accordo sul fatto che non si trattasse di calcio di rigore. Quella chance di Almquist ha fatto un po' d'accanto del cigno delle possibilità offensive del Lecce, la Juve poi ha preso un po' la gara in mano e il Lecce ha denotato una cosa invece un po' nuova rispetto al resto del campionato, una certa incertezza difensiva. Anche il portiere Falcone stavolta, anche sui palloni alti, ha avuto una giornata meno positiva del solito, Pongra e Cice e Baschirot che hanno giocato un buon primo tempo, nel secondo tempo sono andati molto in difficoltà contro un Vlaovic che non sarà ancora a livelli della Fiorentina, quando era un'altra squadra, era un altro gioco, lui doveva fare un altro lavoro, però devo dire ho trovato un Vlaovic sicuramente molto migliore rispetto a tante altre volte che l'ho visto, un giocatore che non credo sia da top assoluto, però è un buon giocatore, è un buon attaccante, mi piace lo spirito e la grinta col quale combatte, si mette a servizio anche della squadra, ed è stato bravo, bravo a sfruttare le occasioni, un primo gol su un contropiede sostanzialmente della Juve, una palla rimessa velocemente dall'altra parte della metà campo, un gallo forse un po' lento da andare a chiudere, anche se non trovo grandissime responsabilità sue su questo punto. Il gol del 2-0, Vlaovic lo va a rubacchiare a McCann, perché il colpo di testa dell'americano probabilmente sarebbe entrato in rete lo stesso, in un'azione nella quale Falcone è molto debole nel cross, e poi nell'uscita, e poi il gol del 3-0 nel finale, che sancisce un punteggio forse anche un po' troppo severo per il Lecce, perché non credo abbia demeritato al punto di perdere con tre reti di scarto, lo realizza Bremer con un colpo di testa di grande potenza su un calcio di punizione di Ealing. Ora, la Juve è prima, dicevamo, questa è un po' un'immagine anche di che cos'è la Serie A, non voglio ripetermi ulteriormente la pochezza del livello di questo campionato, è lì da vedere, pensare che Bremer, Locatelli, giocatori di questo genere, siano primi in classifica, ci danno un po' l'immagine di che cos'è la Serie A in questo momento, un campionato di un livello, a mio avviso, veramente non particolarmente alto. La Juve mi impressiona positivamente per la solidità, ha trovato la capacità di realizzare qualche gol in più anche del normale, è una squadra che ha questo grandissimo vantaggio di non giocare le coppe, che ovviamente non è una bella cosa, però dà la possibilità di giocare una sola volta alla settimana, io mi aspetto comunque molto della Juve in questo girone di ritorno, credo che pur non avendo una rosa realmente all'altezza di vincere un campionato, l'Inter non c'è proporzione tra la rosa dell'Inter e la rosa della Juve, però tra la solidità difensiva, il fatto di giocare un torneo solo, certo c'è ancora la Coppa Italia, il torneo da quale l'Inter invece è stata eliminata, ma l'Inter ancora ha anche la Champions, possono dare alla squadra di Allegri la possibilità di essere competitiva fino alla fine. Per il Lecce la classifica ora dice 14esimo posto, i punti sono 21, 4 punti di vantaggio sulla zona salvezza, c'è un dato però molto preoccupante, se prendiamo la classifica delle ultime 15 giornate, cioè togliamo quel grande inizio di stagione del Lecce quando addirittura c'erano, non dico sogni di Europa, però insomma sogni di un campionato totalmente tranquillo, il Lecce nelle ultime 15 giornate è penultimo, è diciannovesimo con 10 punti, la sola salernitana con 9 ha fatto meno bene della squadra di Daversa. Questo significa che il Lecce è da tanto, troppo tempo in calo, è una squadra che anche se gioca un calcio, ripeto, piacevole da vedere, è un calcio troppo poco concreto, non ci si discosta mai dallo schema di partenza, sicuramente il fatto che non ci sia banda toglie quell'elemento in più, quantomeno anche di confusione, di velocità, di possibilità di creare occasioni da rete maggiori, io continuo a pensare che la doppia punta potrebbe servire, invece Cristovici piccoli giocano sempre alternati, invece mi piacerebbe tantissimo, e appunto contro un Bremer Gatti Danilo, perché no, perché non provarli, non mi sono sembrati proprio una difesa così impermeabile che non potesse essere attaccata dai due bomber insieme del Lecce. Insomma, è un momento difficile per la formazione salentina e settimana prossima c'è una gara onestamente molto delicata, perché l'avversario è il Genoa, una squadra che ricorderete nei pronostici di inizio campionato, vi avevo indicato come all'altezza per poter essere nelle prime dieci del campionato, Genoa con un inizio magari farraginoso, nel quale doveva riprendere il ritmo con il campionato in Serie A, sta tornando invece a buonissimo ritmo, sarà tutt'altro che una gara facile per il Lecce, però è una gara nella quale bisogna cominciare a fare punti veri, il Lecce bisogna di vincere anche qualche partito, o quantomeno di continuare a muovere una classifica, che ripeto, per ora lascia ancora qualche margine di tranquillità, però sicuramente questo trend, oramai dal lungo tempo intrapreso dalla formazione salentina, comincia a far nascere magari qualche perplessità o qualche paura, considerando ovviamente che però non era certo la gara con la Juve, magari quella nella quale andrà a fare i punti, però concretezza, mi aspetto più concretezza, più grinta, più rabbia, magari anche un calcio meno bello, ma un po' più ringhioso, un po' più rabbioso, ammesso che tra l'allenatore e tra questa tipologia di buonissimi giocatori, ma magari non grandi guerrieri, possano riuscire a tirarlo fuori. Vado con le pagina e vi attendo i vostri commenti, la Juve invece giocherà contro l'Empoli, che ha preso Nicola, allenatore di tutt'altro genere, che ha subito vinto la sua prima partita contro il Monza, e ha rimesso l'Empoli, una volta liberatasi della zavorra Andrea Zoli, in lotta per salvarsi. 5 a Falcone, 6 a Gendrè, 5 e mezzo a Pongra e Gigi a Baschirotto, 6 e mezzo a Gallo, 6 e mezzo a Cabà, che mi è piaciuto molto. Stavolta il giocatore francese, con il suo fisico, la sua battaglia, la sua grinta, la sua mobilità, magari alle volte un po' rilento, ma sempre capace di poter essere pericoloso, non mi è dispiaciuto. Ramadani, io gli do 6 e mezzo, un gran primo tempo, nel secondo tempo invece è molto calato, e il caro del legge è forse dovuto anche a lui. 5 a González, 5 a Uden, veramente impalpabile la prova del francese, 6 a Christovic, 6 e mezzo a Alquist, il migliore nel secondo tempo. Nel Lecce mi sono piaciuti Kabà e Ramadani soprattutto nel primo tempo, e Alquist soprattutto nella ripresa. Poco dai subentrati, 5 e mezzo a Blenadorgou, di Pierotti non parliamo, vediamolo un'altra volta in un'altra gara, 5 e mezzo ad Aversa. Per quanto riguarda la Juve, 6 a Zezni, 6 e mezzo a Gatti, 6 a Bremer, 6 e mezzo a Danilo, 7 a Cambiaso, 6 e mezzo a McKennie, 6 a Lucatelli, 6 e mezzo a Miretti, 6 a Kostic, 7 e mezzo a Vlaovic, 6 a Ildiz. dei subentrati, UEA ha dato l'impatto, perché come è entrato lui, poi il Juventus ha trovato i gols. 6 e mezzo ad Allegri, 6 e mezzo a Doveri, 20 falli, 2 a Moniti. Grazie ragazzi, iscrivetevi al canale, fate iscrivervi ai vostri amici, aumentiamo la nostra comunità, vi ringrazio, alla prossima, ciao a tutti, un bacio da Logs.